Ciao a tutti ragazzi, io sono Nickelplay, bentornati sul mio canale e bentrovati ancora una volta a un unboxing dedicato al brand di Dragon Ball Super Card Game oggi siamo qui per presentarvi uno dei prodotti ma intanto vi faccio vedere tutto quello che mi è arrivato per questa nuova espansione prima di tutto è arrivata la quarta espansione Colossal Warfare dove si trova appunto il Goku Ultra Instinto fantastico, davvero fantastico, questa volta si trovano due di 2D Secret poi abbiamo lo starter deck numero 4 verde di piccolo, lo starter deck numero 5 giallo di Goku di quarto livello e poi quello che andremo ad unboxare oggi è lo special pack numero 4 di Demigram dove troveremo appunto 4 pacchetti della serie 4 più la promo di Demigram quindi andiamo ad unboxare questo box e quindi se polliciate ragazzi lasciate un bel mi piace per darmi supporto iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e condividete questo video dove volete in più venitevi a trovare nel mio negozio attanto nel Nickel Play Store in descrizione trovate tutti i riferimenti per potermi raggiungere oggi non so più parlare sono nel 4 e mezzo di pomeriggio e già sono arrivato a certi livelli quindi ragazzi pronti ad unboxare Dragon Ball Super Card Game Special Pack numero 4 vai! ed eccoci qui ragazzi eccolo questo qui è il pack special numero 4 con la promo di Demigra Demigra andremo ad aprire adesso senza rovinare lo scatolo perché appunto voglio conservarmelo ragazzi fatemi sapere se questi video vi piacciono perché se non vi piacciono io non ve li porto ovviamente quindi fatemelo sapere così sono sicuro di potervi portare altri video ok senza romperlo che ce l'abbiamo fatta eccolo qua sbustiamo perfetto intanto vi faccio vedere la promo di Demigra che è questa qui davvero fantastica Dimension Control Demigra attacco 20.000 davvero potentissima e più i 4 pacchetti dove troviamo 4 raffigurazioni diverse abbiamo Baby Vegeta versione Ozaru versione appunto dorata Goku Ultra Strength forma finale Goku di quarto livello e poi Demigra quindi ragazzi apriamo questi pacchetti ovviamente la Secret non penso proprio di trovarla almeno una special non lo so però almeno una super rara sicuro dovremmo trovarla almeno così è stato fino ad ora vediamo se per caso hanno cambiato il range di trovamento prendiamo pronti vai qui intanto abbiamo vediamo il primo Goku di quarto livello poi Gohan poi l'Awakening di piccolo fantastico ci sono ancora le carte nere in questo caso di Trunks poi Instant Transmission bellissima sta carattere di Goku poi Hildegard o meglio qui è chiamato in giapponese Iru De Garn quindi la traduzione è stata un po' cambiata Pan si è Toa poi abbiamo Great Saiyaman 2 poi abbiamo la madre di Goku Jin poi vediamo ancora no abbiamo Vegeta della serie GT e poi questa è una semplice rara vediamo un po' di piccolo la rara di fantastica di piccolo attacco 25.000 vediamo il Goku Ultra Strength lo voglio aprire per ultimo apriamo il Baby Vegeta Ozaru dorato vediamo il pacchetto anche che me lo voglio conservare senza rovinarlo più di tanto e vediamo un po' che troviamo qui partiamo con Pan poi Goten questa mi sembra la versione cattiva con di quando viene preso da Baby spettacolare poi abbiamo Mira infatti l'altro è giustamente questa è Mira Trunks poi abbiamo Goku mentre si sta per trasformare il scignone wow piccolo poi abbiamo anche Bra non me l'aspettavo sinceramente come carta Goten Goten sì sembra più Goku in questa carta però vabbè Goten poi abbiamo questa è una dei nemici di Eros che sinceramente non conosco il nome dietro c'è Demigra però comunque è un nuovo personaggio dedicato alla serie di Eros poi attenzione poi abbiamo l'anziano saggio spettacolare anche questa carta attacco mille proprio debole poi vediamo ancora qui abbiamo Bulma ma io vedo che c'è un nuovo simbolo qua Figurize negli altri no non c'è quindi c'è tipo una specie di rarità particolare con questo set devo informare se voi magari sapete che cos'è fatemelo sapere nei commenti perché sinceramente è la prima volta che la vedo vediamo l'ultima è una rara di chi? oh di Bardak però è una carta extra spettacolare questa carta fantastica adesso andiamo con il Goku di quarto livello intanto mi stava per mancare la voce speriamo che per l'emozione non mi manchi completamente vediamo un po' qui abbiamo Tapion bellissima sta carta uh attenzione la Waking di Mira ma questa è la forma finale ecco questa è la versione normale e questa è la forma finale il cattivo finale di Xenors 2 bellissima sta carta tra l'altro non è nemmeno fuori cioè è una non comune wow spettacolo qui abbiamo poi Tapion è il fratellino che mi sfugge il nome fatemelo sapere nei commenti se ve lo ricordate questi mostriciattoli no vabbè il padre di Kiki non me l'aspettavo cioè in queste cose ci sono carte che uno non si aspetterebbe Vegeta Dende questo è Goku ecco lei si chiama Putin secondo questo nome Putin bellissima sta carta poi Tamburin poi vediamo qui abbiamo la penultima carta non comune foglia anche qui hanno messo le carte le penultime carte che possiamo trovare le foglie di Gohan e poi ultima rara di no vabbè ragazzi Abbrut Breaking Throne Son Goku ma questa hanno fatto una rara di Goku Ultra Istinto forma base ragazzi che carta una carta davvero fantastica bene e ora che abbiamo trovato l'Ultra Istinto raro dobbiamo trovare l'Ultra Istinto non so se c'è in questa espansione mi sa che c'è super raro le special oppure la secret sono altre mi sa vediamo qua adesso speriamo di trovare la super rara nell'ultimo pacchetto speriamo qui abbiamo troviamo Pirina il trono del potere Vegeta GT poi abbiamo qui Hildegard Trunks insieme a Tapion poi Towa Son Gohan di Goku fantastico Son Gohan in questa versione è bellissima anche senza effetto è bellissima sta carta Ectoplasm non ho idea di che parte dell'anime venga questa carta Gotenks di terzo livello Bulma poi vediamo bellissimo Panda bambina bellissima sì una super rara aspetta riconosco è un Goku di quarto livello ragazzi Triple Flash Super Saiyan 4 Son Goku Goku di quarto livello spettacolare questa carta mi mancava ovviamente il primo pacchetto che troviamo quindi Goku è bello che il Goku Ultra Instinto lo abbiamo trovato nel Goku di quarto livello e il Goku di quarto livello lo abbiamo trovato nel Goku Ultra Instinto spettacolare questa carta questa è una più rara che ho trovato al momento quindi ragazzi spolliciate perché se questo video vi è piaciuto datemi supporto e prossimamente se i vostri mi piace saliranno ci saranno altri video di Dragon Ball Super Card Game ciao ragazzi ci vediamo al prossimo video bye bye